Non mi piace parlare degli arbitri, però è evidente che si sono create delle situazioni un po' particolari che sicuramente ha acceso un pochino gli animi, però alla fine le abbiamo gestite bene perché se abbiamo vinto evidentemente siamo riusciti a sfruttare anche quelle situazioni lì. Ci stanno, sono situazioni direi normali che capitano durante una partita, per cui il fatto che ripeto siamo arrivati fino in fondo, l'abbiamo chiusa con 15 punti di vantaggio, significa che siamo in grado di gestire anche queste situazioni di difficoltà quando magari ci sono delle difficoltà non aspettate. Alla vigilia abbiamo parlato sì degli esterni, ma abbiamo posto l'accento anche su Bielic. Diciamo che sotto le plance oggi Ponziani ha dimostrato di avere un passo in più. Sicuramente Ponz ha dimostrato sì di poter fare grandi cose, non c'è dubbio e tanto più l'ha fatto contro un avversario importante. Quindi questa dimostrazione che se è lucido, se è sereno può fare veramente tantissimo per questa squadra e anche per lui stesso e per la sua crescita è importante. Però ecco, questo è un passo, direi che nelle ultime gare ha dimostrato di aver la volontà di crescere da questo punto di vista e se lui continua su questa strada sicuramente i progressi che potrà fare saranno importantissimi. Una vittoria che allunga la striscia positiva? Beh sì, onestamente dieci gare vinte su undici è un risultato che anche il più ottimista non poteva sperare, devo essere sincero. Però evidentemente siamo stati bravi, insomma. Se le abbiamo fatte tutte queste vittorie è qualcosa di buono e si vede che lo stiamo facendo. e quindi bene così.